Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la politica. Mancano poche ore alla prima seduta del Consiglio Comunale. Riflettori puntati sull'elezione del Presidente. In molti già promettono battaglia. Ce ne parla Serena Russo. Riflettori puntati sulla prima seduta del Consiglio Comunale. Si torna in Ola Delfino. L'appuntamento è per domattina alle 9.30 a Palazzo di Città. Qualche piccola incertezza sulla tenuta della riunione. Viste le defezioni già annunciate dalla convocazione. Ma i numeri reali si conosceranno solo in mattinata. Convalida degli eletti, Costituzione dei gruppi consigliari. è presa a dato del giuramento del Sindaco. Ma la vera attesa si consuma sull'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale. Inizialmente individuato nella figura di Michele Laforgia, che ha poi declinato la proposta, sembrerebbe Romeo Ranieri, esponente del gruppo Conno. Il nome prescelto è già indicato ufficialmente in una nota del Sindaco. Procedura dichiarata irrituale rispetto al passato da molti. Ma se da un lato è stato lo stesso primo cittadino a minimizzare i rischi di eventuali stalli nella procedura, ecco che sotto traccia sono più di uno i malumori che si registrano. Non è detto dunque che si arrivi ad un'elezione al primo turno, per cui lo ricordiamo, corrono 24 voti. Oltre a quello di Romeo Ranieri, sono altri nomi circolati in queste ore. Per la seconda carica, dopo quella del Sindaco in Comune, parliamo dei consiglieri Marco Bronzini e Pierluigi in trona. Un'assise che a poche ore dal suo primo importante provvedimento sembrerebbe già spaccata sul da farsi e che potrebbe reagire, quantomeno in prima battuta, con una schiera di schede bianche e l'avvio di nuove interlocuzioni. Intanto, tra volti nuovi e riconferme, il nuovo consiglio sarà composto da una maggioranza a sostegno di Leccese che vanta 28 seggi suddivisi tra 23 esponenti delle liste immediatamente collegate al Sindaco e 5 che hanno supportato l'altro candidato del centrosinistra, l'avvocato penalista Michele Laforgia, anche lui presente in consiglio. Ci sono poi otto consiglieri all'opposizione, tra i quali il leghista Fabio Romito, sconfitto da Leccese al ballottaggio. Il gruppo più numeroso sarà quello del Partito Democratico, con dieci consiglieri, seguito da De Caro per Bari con cinque. Restiamo in tema perché intanto è tempo di traslochi e nuovi insediamenti per gli assessori della neonata giunta a Leccese. Vediamo. A poche ore dalla presentazione dei componenti della giunta è tempo di organizzazione dei nuovi uffici. In piazza Chiurlia, nell'assessorato allo sviluppo economico, è il trasloco dell'uscente Carla Palone a Tenere Banco. Non è sola nella stanza che l'ha ospitata negli ultimi dieci anni. Con lei c'è il nuovo inquilino, colui che subentra nella ripartizione e che lì rimarrà nei prossimi cinque. Pietro Petruzzelli, che raccoglie le delega alle attività produttive e alla Blue Economy. Quadri eliminati dalle pareti e su pelletti li ha catassate sul divano. In cima il famoso elmetto giallo, con cui gli assessori della prima giunta a De Caro caratterizzarono, dieci anni fa, la loro prima uscita pubblica. E c'è anche il passaggio di consegne, informale certo, ma necessario per ripartire in un percorso iniziato anni fa, ma che ora si arricchisce di nuove sfide. Io sto cercando di prendere consapevolezza degli spazi, questi nuovi luoghi. Da un lato è una cosa bella, in qualche modo al fascino di una nuova sfida, di misurarsi con delle problematiche diverse, cercare e provare a dare delle risposte diverse rispetto a quelle date in passato. Dall'altro c'è comunque come un maglione nuovo, che fin quando non prende la forma del corpo è bello, è nuovo, ma mi sta un pochettino scomodo. Credo che sia una cosa naturale quando ci sono dei cambiamenti. Incerta ancora la sede dell'assessorato invece per Carla Palone, che con le deleghe alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, si dividerà probabilmente tra il comando a Iapigia e Palazzo di Città. Anche per l'assessora l'avvio di una nuova sfida, ma su alcuni punti le idee sono già chiarissime. Trasloco praticamente finito, l'assessore è pronta a lasciare la stanza in cui ha lavorato negli ultimi dieci anni? Sì, sono pronta. È sempre un momento particolare quello del trasloco in qualche modo, però sicuramente troverò spazio, emozioni nel nuovo ruolo che da giovedì inizierò questa nuova avventura. La sua delega si è sempre contraddistinta in questi anni anche per la sua vicinanza nei confronti del comandante, a prescindere da chi lo fosse in quel momento, il comandante della Polizia Locale. Questo la rende particolarmente contenti e ha già qualche obiettivo? Sì, mi rende decisamente orgogliosa del lavoro fatto in questi dieci anni. Dal primo giorno che sono entrata in questo assessorato, la mia prima stretta di mano è stata proprio un comandante della Polizia Locale. Oggi andrò a gestire più di 600 donne e uomini della Polizia Locale con il comandante Michele Palumbo e mi auguro che possiamo portare a termine degli obiettivi. Noi cambiamo argomento. Archiviato il Ferragosto per gli studenti italiani è tempo di organizzare il ritorno a scuola anche alla luce del calendario del nuovo anno scolastico. In Puglia l'avvio è previsto per il 16 settembre ma con l'autonomia scolastica molti istituti scelgono di partire qualche giorno prima. Sentiamo. La campanella nelle scuole pugliesi suonerà più tardi rispetto alle altre regioni. I primi a tornare in classe saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano che ripartiranno il 5 settembre mentre in Puglia, così come in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana la ripresa dell'anno scolastico è prevista per lunedì 16. Tuttavia ogni istituto sulla base dell'autonomia è fermo restando il numero complessivo di giorni di lezione che deve rimanere per tutti lo stesso può fare delle scelte sia relativamente alla data di inizio che alle chiusure durante l'anno scolastico per le festività e i relativi ponti. La scelta di anticipare le lezioni si deve alla possibilità di recuperare nel corso dell'anno scolastico giorni di riposo ma alcune associazioni chiedono di modificare il calendario scolastico per via del forte caldo e del cambiamento climatico. Abbiamo deciso di cominciare l'11 per poter poi recuperare alcuni giorni durante l'anno scolastico quindi due giorni a carnevale il 3 e il 4 marzo e poi il ponte del primo maggio perché il primo maggio è di giovedì quindi prenderemo il 2 maggio come ponte per poter allungare le giornate di vacanza. Sicuramente è uno svantaggio perché le nostre scuole non sono dotate di aria condizionata e quindi sicuramente i ragazzi e gli stessi docenti avranno difficoltà secondo me però purtroppo i giorni devono essere quelli e quindi cominciare un po' prima anche se solo di tre giorni che poi col ponte insomma del weekend diventano 5 giorni perché dal 16 insieme saremo l'11 sicuramente da questo punto di vista non è una cosa positiva. A Bari a settembre i primi a tornare tra i banchi di scuola saranno gli alunni dell'istituto Gorgiù Tridente Vivante che frequentano il corso di studio sperimentale relativo all'indirizzo tecnico e turismo quadriennale anticipando l'inizio delle lezioni a mercoledì 4 settembre con il termine posticipato a venerdì 13 giugno 2025. Tra le scuole secondarie di secondo grado i licei baresi Orazio Flacco, Scacchi e Salvemini insieme all'istituto Armando Perotti apriranno i cancelli il 10 settembre. A seguire il Giulio Cesare ripartirà il 12, il Socrate il 13 e il Fermi il 16 settembre. Noi come scuola abbiamo una grossissima novità quest'anno perché siamo stati designati per l'organizzazione dei campionati europei di robotica che si svolgeranno quindi a Bari presumibilmente nei padiglioni della Fiera del Levante nella prima settimana di giugno. Quindi abbiamo l'organizzazione di questo evento che è un grandissimo evento, vede arrivare da tutta Europa circa 1.500-2.000 ragazzi delle varie squadre che avranno vinto i campionati nazionali di ogni nazione appunto europea. Già pronte le cartolerie baresi con zaini e diari in bella mostra ma genitori e studenti per il momento pensano all'acquisto dei libri di testo per non ridursi all'ultimo momento e rischiare di non trovarne. Vediamo. Gli scaffali delle cartolerie baresi sono pronti con quell'odore inconfondibile degli articoli di cancelleria a preannunciare l'inizio del nuovo anno scolastico. Zaini e diari nuovi di Zecca sono disposti in bella vista nei negozi ma rischiano come da qualche anno a questa parte di restare lì a prendere polvere. Dopo l'introduzione del registro elettronico su cui vengono appuntati i compiti e avvisi le agende hanno perso il loro appeal. Sono lontani ormai i tempi in cui bambini e ragazzi attendevano con ansia il momento dell'acquisto dei diari e delle nuove cartelle dove scambiarsi dediche e messaggi. In cartolerie ormai si va solo per ordinare i libri di testo, forse. Sin da giugno si comincia perché chi è previdente vuole trovarsi libri già pronti per l'inizio dell'anno scolastico vengono anche con notevole anticipo, da giugno sono già pronte le liste. Libri, soprattutto libri usati e nuovi, prenotazioni per i libri elementari, medie e superiori. Per quanto riguarda la cancelleria siamo ancora fermi, diciamo che l'acquisto dello zaino non è più come una volta, che devi comprare lo zaino nuovo ogni anno scolastico, diciamo no, lo zaino se non si rompe non si acquista. Il diario anche questo diciamo che va, si vende sempre meno perché con i tablet, la scuola, il registro elettronico, il whatsapp, il diario diciamo che parte dalla scuola elementare terza, quarta e quinta, arriviamo alle scuole medie e dopodiché è completamente fermo. Adesso per gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito www.telebari.it ci colleghiamo con Tiziano Tridente, buonasera Tiziano. Sì eccoci Maricla, buonasera, parenti e amici, conoscenti e tanti concittadini uniti dal dolore provocato da una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Si sono svolti oggi pomeriggio a Gravina nella parrocchia Spirito Santo i funerali di Rene Agostinacchio, la 23enne morta ieri mattina in seguito alle ferite riportate nell'esplosione dovuta a una fuga di gas avvenuta nella notte di Ferragosto in una casa a Porto Cesario. Esplosione costata la vita anche al padre della ragazza, l'odontoiatra 58enne Giuseppe Agostinacchio, deceduto il giorno dopo la drammatica circostanza. Generosa, buona, trascinatrice, sempre pronta ad aiutare gli altri con i suoi ideali di unità, ha spiegato Vito il fratello di Rene durante la messa celebrata da padre Mario Marino. Poi la lettera delle amiche conosciute sui banchi di scuola, porteremo con noi la tua voglia di vivere, la gioia che trasmettevi ad ognuna di noi hanno promesso e quel tuo sorriso che ricorderemo per sempre. A fine messa poi una canzone, la nuova stella di Broadway, brano di Cesare Cremonini dedicato a Irene e cantato da chi le voleva più bene. La ragazza verrà tumulata domani mattina a Leverano, paese di origine della mamma, dove già era stata trasportata la salma del papà Giuseppe. Restano gravi, seppure stazionari, le condizioni del fidanzato 24enne della giovane ricoverato a Bari, anche lui ferito nella tremenda esplosione. A te. Grazie Tiziano, noi ci spostiamo nel quartiere Santo Spirito di Bari per parlare dell'emergenza a parcheggi. I cittadini e commercianti lamentano la mancanza di posti auto, soprattutto nei mesi estivi. È stata lanciata una petizione per chiedere nuovi stalli nelle zone più interne nel servizio di Giuseppe Bellino. C'è chi attende impaziente in attesa di un'auto che vada via, chi invece abbandona l'idea di uscire a bordo della propria utilitaria ed è costretto a percorrere qualche centinaia di metri a piedi. Siamo nel quartiere Santo Spirito di Bari, da tempo alle prese con il problema parcheggi. La zona, frequentata da migliaia di turisti nei mesi estivi, non dispone di stalli a sufficienza per le esigenze dei residenti. L'emergenza riguarda soprattutto le aree più interne, poco lontane dal lungomare, come via Savona, via San Marco, via Padova e via Bologna. È un problema che sentiamo abbastanza. È molto problematico parcheggiare, ormai è diventato difficilissimo. Ci vorrebbe una soluzione. Certo? Molto di più. In questo periodo ancora molto. Speriamo che fanno qualcosa, si risolve. pensavo di migliorare, invece no. Hanno peggiorato. È alla grande il parcheggio. Ma ci può trovare, a noi residenti, che io ho il posto a macchina, va bene, però il mio figlio se mi viene a trovare deve girare il mezzo Santo Spirito. È un problema. I consiglieri municipali di Fratelli d'Italia hanno lanciato una raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale la realizzazione di nuovi stalli per le auto. Il problema riguarda anche gli esercenti commerciali. Sono tanti i clienti persi per la mancanza di posti auto nelle vicinanze delle attività. Sì, perché non possono più fermarsi le persone per fare acquisti. Non avendo possibilità di parcheggiare, non si possono fermare. Anche perché sia la mia come tutte le altre attività qui intorno, non vendiamo solo la minuteria che uno può parcheggiare, chissà dove, venire e prendere cose leggere. Può trovarsi anche dover acquistare cose pesanti. Ovviamente non si può di certo fermare né in doppia fila né tantomeno davanti a passi carrabili perché non ci sono possibilità di parcheggi e quindi non si possono fermare. E adesso ci occupiamo del nodo verde, progetto che cambierà la stazione di Bari Centrale. È stata aggiudicata la gara ad appalto del valore di 143 milioni di euro per l'opera che pervede anche un parco urbano lungo 3 chilometri. Il grande progetto del nodo verde comincia a prendere forma. È stata aggiudicata la gara d'appalto del valore di 143 milioni di euro per la progettazione del nuovo hub della stazione di Bari Centrale. L'opera, ideata dall'archistar Massimiliano Fuxas, punta la riconnessione urbana e prevede un parco urbano e il rinnovamento delle aree esterne. Il nuovo hub garantirà agli utenti un accesso al sistema ferroviario più rapido e sicuro attraverso l'efficientamento del sistema intermodale, il potenziamento dei collegamenti tra il nuovo fabbricato viaggiatori che sarà realizzato a ponte sopra i binari e le banchine, una nuova illuminazione e percorsi dedicati per viaggiatori e cittadini. Una piastra verde riconnetterà i quartieri oggi separati dal fascio binari attraverso la realizzazione di un parco urbano con servizi fruibili alla comunità e nuovi percorsi ciclabili e pedonali. Il progetto prevede anche la pedonalizzazione parziale di Piazza Aldomoro, l'ampliamento delle superfici pedonali e creazione di piste ciclopedonali su via Capruzzi. Fuxas ha immaginato il nodo verde ispirandosi al Central Park di New York. Un grande parco si estenderà per tre chilometri e sarà caratterizzato da 350 alberi, percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto prevede anche la riqualificazione di una parte dell'area della stazione nella zona che va dal passaggio pedonale di Corso Cavour a via Giulio Petroni. E noi cambiamo argomento e di qualche ora fa la dichiarazione dell'Ordine Mondiale della Sanità sull'emergenza globale per il vaiolo delle scimmie e ce ne parla Raffaella Di Renzo. E di qualche ora fa la dichiarazione dell'Ordine Mondiale della Sanità sull'emergenza globale per il vaiolo delle scimmie, monkeypox, dopo la notizia del primo caso diagnosticato in Spagna. Non è sicuramente una situazione sovrapponibile dal Covid, i casi extraafricani sono numerosi ma sono ancora molto sporadici e naturalmente esistono anche dei vaccini che sono stati messi a punto per il monkeypox, ricordando che questa esplosione di casi potrebbe, in Africa, potrebbe anche essere dovuta al fatto che il vaiolo umano è stato eradicato e quindi non si vaccina più da tanti decenni per il vaiolo umano. E quindi siccome esiste una protezione crociata tra il vaiolo umano e il vaiolo delle scimmie, probabilmente questa ripresa del vaiolo delle scimmie, del monkeypox, è dovuta anche a un calo della vaccinazione per il vaiolo umano. Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale causata da un pox virus, un virus vaioloso dalla forma ovoidale con un genoma DNA a doppia elica. Attualmente su scala mondiale stanno circolando due diverse varianti di diversa patogenicità, si chiamano clade 1b e il clade 2, variante meno pericolosa rispetto al clade 1b che ha causato circa 15.000 infezioni e più di 500 morti nella Repubblica Democratica del Congo. A dispetto del nome non c'entra quasi nulla con le scimmie, cioè la malattia si chiama così semplicemente perché i primi casi furono scoperti in scimmie di laboratorio, però le scimmie sono ospiti occasionali esattamente come l'uomo. Come ci si contagia e come si evita il contagio? Il contagio avviene a largo spettro, in genere per contatto diretto o indiretto con il contenuto delle pustole vaiolose, ma anche per via respiratoria, attraverso i segreti respiratori delle persone contagiate. Però l'epidemia del 2022 è stata caratterizzata da una trasmissione un po' atipica per via sessuale, da colpito, senza che questo sia uno stigma naturalmente, soprattutto uomini che avevano rapporti omosessuali con una colonizzazione delle vescicole prevalentemente a livello genitale e perigenitale. Il contagio determina una malattia che generalmente di lieventità è caratterizzata da febbre, malessere generale, è comparsa delle tipiche pustole vaiolose in varie parti del corpo a seconda di dove è avvenuto anche il contatto con il materiale infetto. A partire da maggio 2022, quindi in due anni circa, quando in Italia è stato riscontrato il primo caso di infezione, nel nostro paese sono stati confermati 1.056 contagi, 262 dei quali collegati a viaggio all'estero. Esiste un vaccino come rimedio. Un riconoscimento internazionale per raccontare e valorizzare i talenti della Puglia. Anche quest'anno torna il premio Margherita d'Oro in programma per il 24 agosto nell'omonima città della regione. I premiati di questa edizione sono uomini e donne della Puglia che hanno scalato le vette della professione e dello sport. L'evento sarà ricco di sorprese in grado di coinvolgere il grande pubblico, un momento di condivisione tra istituzioni e comunità in una terra che come la Puglia è da sempre culla di arti e di saperi. Con i vincitori infatti ci saranno artisti di livello nazionale e internazionale che si esibiranno durante la serata, il cui late motive sarà la sostenibilità. Ogni anno il premio assume infatti una connotazione diversa e diventa portavoce di messaggi e di ispirazione sui temi di primaria, attualità e di importanza. Nel 2022 il tema individuato fu la legalità, nel 2023 il filo conduttore fu invece la cultura. La serata continuerà con la musica dal vivo di cantautori e compositori come Amedeo Minghi e dell'orchestra Stupor Mundi. Invece passiamo alle notizie che ci arrivano dall'area metropolitana e dalle altre province. Un uomo di 44 anni, nato in Romania ma residente a Salerno, questa mattina è caduto da una scala mentre era impegnato nello smontaggio delle luminarie allestite per la festa patronale di Spinazzola nel nord barese. L'operaio, precipitato da un'altezza di 3 metri, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Bonomo di Andria dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Il 44 anni in seguito alla caduta ha riportato un grave trauma cranico e alcune fratture ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. E ci spostiamo ora in provincia di Tarant per parlare della presentazione del Cabafest, il Festival della Comicità di Crispiano, durante il quale sarà anche premiato Lino Banfi che riceverà il premio alla carriera. Ce ne parla Angelo Ingerito. Domenica 25 agosto torna il Cabafest, il Festival della Comicità di Crispiano, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale People Agency in collaborazione con la Comune di Crispiano. Il Cabafest fa parte di Festa d'Estate, giunta quest'anno la sua diciassettesima edizione. A condurre la serata, che si svolgerà nella centralissima Piazza Madonna della Neve, una supercoppia formata da Marco Colonna, nuto comico di Zelig, ed Antonella Carone, attrice e presentatrice, volto supernuto per la sua partecipazione da protagonista ai film Me Contro Te. Durante la serata, il maestro della comicità italiana, nonché il nonno d'Italia per eccellenza Lino Banfi, sarà premiato con il premio alla carriera ed il premio Pugliese Do. Siamo alla diciassettesima edizione del Cabafest, siamo ancora in piazza Madonna della Neve, il cuore di Crispiano e come ogni anno portiamo ospiti nazionali che hanno calcato palchi importanti come quello di Zelig, Colorado e quindi anche quest'anno porteremo grandi ospiti. Premeremo Daniele Condotta per la sua uscita a Prime Video con un film, famosissimo youtuber tra l'altro. Premeremo anche un comico locale che è Gianni Caroli, poi Boccasile e Maretti, una coppia televisiva, poi ancora da Zelig, Cinzia Marsella, prima volta in Puglia e quindi questo è un altro ospite speciale. Dall'anno scorso abbiamo anche riconfermato la band Resident che sono i Gaggios, una band barese. Diciassettesima edizione, un grande applauso alla People Agency, a Sergio Sisto con tutta la sua organizzazione che ancora una volta ha creato un bellissimo evento per Crispiano e il terzo anno consecutivo che lo facciamo, lo abbiamo riportato qui in Piazza Madonna della Neve e siamo davvero contenti. Tantissimi ospiti, un premio alla carriera veramente speciale al maestro Lino Banfi. Andiamo ora a Foggia perché è di Lucera la prima cooperativa di comunità della Capitanata che punta a diventare uno strumento in più per gestire il patrimonio storico e culturale della città. Ce ne parla Nicola Saracino. Si chiama Lux Cereris, la prima cooperativa di comunità di Lucera nata da Patrimoni Generativi, il progetto partecipativo ideato dall'APS Cinque Porte Storiche a Città di Lucera e finanziato dal bando Puglia Capitale Sociale 3.0. La cooperativa di comunità di Lucera costituisce un valore aggiunto per la città, uno strumento che può affiancare le istituzioni nella gestione del patrimonio materiale e immateriale, migliorando i servizi e creando coesione sociale. Se si tratta di un esperimento che sta già avendo successo in altre città d'Italia, le cooperative di comunità sono forme di imprenditoria partecipata da persone fisiche che hanno legami con un determinato territorio, nonché da enti pubblici e privati che in esso operano in maniera istituzionale. Le finalità della cooperativa di comunità è valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali e locali per soddisfarne i bisogni, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi abita e opera in un territorio e contribuire così al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente. Tutti potranno entrare a far parte della cooperativa di comunità di Lucera purché in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, oltre ad avere una connessione con la città, secondo il principio della democraticità. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione di Telebari prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it. Buon proseguimento di serata. Ben trovato in un aggiornamento meteo con le previsioni per mercoledì, quando si sposterà ulteriormente verso est il minimo di bassa pressione, ormai i fenomeni saranno scarsi sull'Italia. C'è l'alta pressione che appunto ci accompagnerà da mercoledì in vista del weekend, anche con le temperature in aumento perché la massa di aria tornerà direttamente dalla Spagna e da parte del Nord Africa. Andiamo a vedere quindi questo zoom e precipitazioni con dei temporali che si formeranno sulle Alpi, sulla Rosale Appenninica, qualcosa anche sulla Sicilia Tirrenica, però diciamo che il tempo va migliorando per un aumento della pressione. Ecco qualche temporale sulle zone interne del centro-sud, soprattutto il lato Adriatico, il Salento, qualche fenomeno non riscudiamo anche sulla Sicilia, Sicilia Tirrenica, altrove torna il sole con temperature in ripresa un po' dappertutto, fino a 36 gradi sulla Toscana. Maggiori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.